Una tavola rotonda per mettere a fuoco il futuro industriale di Salerno e della provincia, partendo da quella che è sicuramente la questione più spinosa sul tavolo, ovvero la vertenza pisano, ad organizzarla alla Cigellia al fine di proseguire ed ampliare un percorso di discussione e confronto già avviato da tempo, chiamando ad un contributo cittadini, lavoratori, imprese, parti sociali, associazioni, attori della ricerca, politiche e istituzioni. Il tema è di vitale importanza, quello dello sviluppo dell'industria, dell'innovazione e dell'occupazione. Sullo sfondo, ma neanche tanto, in considerazione del parterre dei partecipanti all'incontro di questa mattina, il caso delle fonderie Pisano, la cui vertenza resta in piedi e che, in un lavoro di sintesi necessario tra i diversi attori coinvolti, potrebbe trovare possibili sbocchi che tutelino tutti gli interessi in campo, l'interesse dell'imprenditore e delle maestranze adesso collegate e la tutela della salute della comunità interessata all'insediamento. Ci troviamo di fronte ad una situazione per cui stamattina abbiamo ospiti, interlocutori, sul nostro territorio, per noi fondamentali, per uno sviluppo armonico, per cui discutiamo con Confindustria e discutiamo con l'ASI, perché si possa riprendere una discussione virtuale, virtuosa intorno a questo problema. E a partire dalle fonderie Pisano, che preannunciano un nuovo insediamento, con bonifica dell'aria, del vecchio insediamento, con impianti tecnologici di altissimo livello, quindi si va verso un'industria 4.0, con finanziamenti importanti e con assunzioni importanti. Ecco, la politica, il grande assente in tutta questa vicenda, che poi assente non è, ma che sotto banco opera, vuoi in una direzione, vuoi in un'altra, è quella che non ci sta dando la possibilità di ragionare in termini programmatici veri e che, nonostante alcune strutture sovraordinate, da un punto di vista territoriale, hanno il potere di intervenire, vedi la provincia, vedi la regione, sotto questo profilo poi non si interviene su varianti che, dal nostro punto di vista, servono solo per far perdere tempo. Se un'azienda che vuole fare un investimento in un'area industriale, quindi in un'area destinata a accoglierla, qui non stiamo parlando, né sulla spiaggia, né nel centro di una città, è bene se rispetto alle leggi che lo Stato prescrive, quindi l'ambiente, la sicurezza, secondo me ha assolutamente legittimità ad insediarsi. Punto. Perché se deroghiamo e mettiamo questo in discussione, allora voglio dire che noi non daremo certezza a nessuno, allora è meglio che lasciamo perdere.